Musica Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura l'emergenza sanitaria in seguito all'aumento dei contagi e alla scoperta di nuove varianti gli esperti stanno chiedendo a gran voce un nuovo lockdown totale intanto l'ASL Napoli 3 Sud riorganizza i presidi ospedalieri a seguito dell'aumento dei ricoveri previsti 30 nuovi posti letto al Covid Hospital di Bosco Trecase il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano ieri giornata nera, un morto a Torre del Greco e tre a Torre Annunziata spazio poi alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 100.000 capi contraffatti e maschere di carnevale non a norma in chiusura il carnevale ai tempi del Covid a Torre del Greco i genitori non rinunciano a portare in strada i figli mascherati questo ed altro, guardiamo i servizi è necessario rafforzare le misure in tutto il paese per contenere la diffusione delle varianti del Covid con il governo che deve ancora ottenere la fiducia in Parlamento gli esperti rilanciano l'allarme dall'Istituto Superiore di Sanità al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fino al Comitato Tecnico Scientifico l'input è sempre lo stesso fino a quando non si rallenta la corsa del virus è impossibile pensare ad un allentamento delle restrizioni un messaggio chiaro che potrebbe portare ad un'ulteriore stretta è che l'esecutivo valuta come conferma il Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Germini al termine della riunione con il CTS la pandemia è ancora forte conferma, non si può scherzare se è necessario fare scelte di rigore ma la prima a dividersi sulla linea è la comunità scientifica lockdown duro per un paio di settimane o interventi selettivi che la situazione sia seria gli esperti e i tecnici lo dicono e lo scrivono nei documenti ufficiali da giorni e la nota con cui Palazzo Chigi ha intestato al Governo l'ordinanza firmata al Ministro della Salute Roberto Speranza per bloccare l'apertura degli impianti da sci è la conferma che la linea scelta è quella del rigore l'analisi degli scienziati non lascia spazio a interpretazioni la diffusione di varianti con maggiore trasmissibilità dice lo studio dell'IS può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure in mitigazione adeguata una posizione che è sulla stessa linea è quella del Centro Europeo per il controllo delle malattie su come intervenire però gli scienziati non sono così compatti l'appello del consulente del Ministro Speranza Walter Ricciardi lockdown totale per un periodo di tempo limitato è stato accolto dal virologo Andrea Crisanti e dall'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli secondo il quale però una chiusura totale avrebbe senso se accompagnato da una vaccinazione di massa di altro avviso il direttore dello Spalanzani Francesco Vaia e l'assessore alla salute della Puglia per Luigi Lopalco secondo i quali servono chiusure chirurgiche e selettive 30 nuovi posti letto al Covid Hospital di Bosco Tre Case l'Asl Napoli 3 Sud accelera la creazione di nuovi posti letto a fronte del nuovo incremento dei contagi da Covid-19 si è reso necessario un riassetto delle strutture ospedaliere l'obiettivo è quello di non arrivare alle situazioni critiche vissute in autunno con interi presidi saturi di ricoverati fino al limite attenzione sull'ospedale di Bosco Tre Case maggiormente esposto all'afflusso di contagiati dall'intera area vesuviana per far fronte al notevole incremento dei casi Covid che necessitano il supporto respiratorio registrato negli ultimi giorni la direzione strategica dell'Asl ha deciso di incrementare la disponibilità di assistenza ventilatoria con ulteriori 30 posti letto allestiti presso il Covid Hospital di Bosco Tre Case oltre i 22 già disponibili la decisione scaturisce anche dalla situazione venutasi a creare presso i pronto soccorso aziendali in particolare quello di Castellammare di Stabbia nei quali negli ultimi giorni si è verificato un notevole afflusso di ambulanze con a bordo pazienti in attesa di assistenza sul fronte della necessità di personale qualificato da dedicare nuovi posti letto di Bosco Tre Case la direzione Asla ha deciso di rimodulare temporaneamente l'offerta spostando dal Covid Hospital alcune unità in servizio a Castellammare a Torre del Greco in tutto questo si collocano quindi le criticità del Maresca che ha temporaneamente il personale ridotto a causa di questi passaggi l'area di pronto soccorso è stata liberata una scelta che ha scatenato la preoccupazione soprattutto dopo che il 70% dei ricoverati nel reparto di ortopedia e chirurgia era risultato positivo al tampone i 10 pazienti ospitati sono stati riallocati al piano superiore che è passato da 16 a 26 posti letto massimi lasciando così inalterata la capacità complessiva nel pronto soccorso al termine di lavoro in atto saranno disponibili ulteriori 6 posti letto di terapia subintensiva un intervento disposto dall'ASL il mese scorso e che ricaverà nuovi spazi per i degenti in uno stabile adiacente al pronto soccorso procedura che ha richiesto il trasferimento dei pazienti la direzione ASL a Napoli 3 Sud ha ribadito che si tratta di scelte a carattere temporaneo dovute all'emergenza alla fine della quale si prevede la riapertura del pronto soccorso di Torre del Greco a Torre del Greco sono stati certificati ieri 40 casi di positività al covid-19 di cui uno ripositivizzato tre in regime ospedaliero e restanti in isolamento domiciliare 53 invece le nuove guarigioni ha testato il passaggio di due soggetti positivi dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero purtroppo è stato comunicato anche il decesso di un cittadino di 92 anni sono 33 nuovi casi di contagio da covid-19 a Torre Annunziata a fronte di 221 tamponi effettuati con l'indice di positività che si attesta al 14,93% al contempo si registrano anche 43 guarigioni e tre decessi questi ultimi verificatisi dal 12 al 14 febbraio si tratta di un uomo di 72 anni e di due donne rispettivamente di 81 e 87 anni sono 102 cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus il 13 e 14 febbraio 2021 tra i nuovi contagiati ci sono 4 piccoli tra i 2 e i 4 anni e 17 ragazzi tra i 10 e i 17 anni tra i nuovi positivi anche un 92enne e un 90enne sono stati lavorati complessivamente 596 tamponi 11 invece guariti tra cui due bambini di 6 e 7 anni e tre ragazzi di 12, 13 e 15 anni il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli nel corso di due distinti interventi ha scoperto nel quartiere Scampia del capoluogo una fabbrica abusiva e sottoposto a sequestro nel complesso 114 mila articoli contraffatti tra cui capi di abbigliamento e accessori di carnevale in particolare nel corso di un primo intervento i baschi verdi del gruppo pronto impiego seguendo alcune voluminose consegne portate a termine da insospettabili fattorini in realtà tutti collegati allo stesso gruppo hanno effettuato un primo sequestro cui è seguita la perquisizione di un appartamento che ha permesso di accertare che all'interno era stata allestita una vera e propria fabbrica del falso attrezzata con macchinari per la produzione di merce contraffatta e materiale utile all'assemblaggio e confezionamento sequestrati oltre 600 capi di abbigliamento già confezionati e pronti ad essere immesi sul mercato tra maglie, giubini e pantaloni dei marchi contraffatti Adidas Chanel, Nike, Gucci, Pyrex, Scarpe e Borse Griff Alexander McQueen, Saucone e Timberland ed oltre 28 mila tra etichette, cerniere e scatole per scarpe e buste denunciata la titolare una 31enne di Napoli per contraffazione e ricettazione Carnevale ai tempi della pandemia a Torre del Greco più maschere che mascherine quest'anno le festività del Marte di Grasso sono state stroncate ovviamente dall'emergenza sanitaria niente manifestazioni con bambini niente corteio, spettacoli in strada l'ordinanza numero 5 firmata dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha dettato regole rigide per evitare qualunque tipo di assembramento fra queste anche la chiusura di parchi e ville comunali in genere luogo ideale per sfoggiare le maschere più originali tuttavia a Torre del Greco molti genitori non hanno rinunciato alla tradizione tanti bambini in strada con travestimenti e coriandoli le limitazioni hanno avuto un effetto ambiguo sul divieto dei assembramenti chiudere aree come la villa comunale con i cancelli sbarrati o piazza Santa Croce presidiata dalle forze dell'ordine ha solo impedito alle persone di riunirsi in luoghi più ampi così gran parte degli irriducibili mascherati si è riversata per le principali vie del centro mescolandosi a persone in strada per servizi e compere mattutine una festa a metà insomma dove la voglia di tradizione si è scontrata con la sicurezza un compromesso che ha tolto gogliardia ma non il pericolo e con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale